La curcuma si può trovare nei negozi biologici. Questa è come si presenta quando è fresca. Il modo però in cui viene maggiormente utilizzata nella cucina ayurvedica è nella forma secca e in polvere. E questo è come si presenta. Uno splendido colore. Oppure la possiamo trovare nei negozi dei bengalesi, degli indiani e dei pakistani. In tutte quante le città bene o male ce n'è uno. Come questo. Entriamo. Eccola qui. Qui lo troviamo in questi negozi in una forma in polvere e avrà due nomi. Tameric e Haldi. Tameric è curcuma in inglese e Haldi è curcuma in indie. La curcuma è una pianta erbacea, perenne, rizomatosa come lo zenzero. Ed è il rizoma per cui l'ingrossamento del fusto, quello che si utilizza, sia in ambito alimentare sia in ambito erboristico. In India però, la maggior parte delle volte si utilizza la curcuma in polvere, dunque in versione essiccata. E la maggior parte dei suoi usi sono in ambito alimentare, ma non solo. La curcuma è probabilmente la spezia più utilizzata nella cucina ayurvedica. Tant'è che nell'ordine di cottura delle spezie, perché le spezie hanno un ordine di cottura, è messa per ultima e quasi sempre si utilizza, per molteplici motivi, di carattere salutistico, tanto quanto di carattere simbolico, perché la curcuma è gialla, è il colore del sole, del grano, dell'energia vitale ed è soprattutto uno dei colori della dea. Infatti la curcuma è chiamata anche la dea dorata. Si può utilizzare in tutti, tutti, tutti i piatti, il che vuol dire che si può cucinare con i legumi, con i cereali, con le verdure, con la carne, col pesce, addirittura con la frutta, oppure nei dolci, per cui ha un utilizzo veramente universale. Come lo utilizzeremo oggi? Ci metteremo un cucchiaino piccolino di curcuma, dentro un bicchierino, una tazza, quello che volete, poi prenderemo del miele, un cucchiaino un po' più grande rispetto a quello della curcuma, tipo questo, per esempio. Lo versiamo sopra. Quello che avanza, naturalmente, lo mangiamo. Buono. E poi, siccome è un po' troppo pastoso il tutto, lo allunghiamo con un po' di acqua. Ora, ricordatevi sempre, però, che l'acqua deve essere calda, ma non caldissima, altrimenti il miele diventa tossico. E poi, ingeriamo. Vedete? La consistenza è quella di una pappetta, più o meno. La potete aggiungere allo yogurt, per esempio, oppure la potete spalmare. Se riuscite, anche se questa qui è un po' troppo liquida, sulle fette biscottate. Oppure ve la potete mangiare così. La curcuma in Ayurveda è importantissima. È probabilmente la spezia più importante che ci sia. Basta semplicemente dire che in sanscrito ha 54 nomi, uno per ogni singola funzione. Tra cui, per esempio, colei che dona una carnagione dorata, colei che uccide i vermi, colei che allontana la febbre, solo per citarne alcuni. Per ridurre le sue funzionalità all'osso, mi limiterò a dire che la curcuma è l'antibiotico, l'antibatterico e l'antinfiammatorio ayurvedico per eccellenza. Inoltre, è una delle pochissime spezie in Ayurveda che possono utilizzare tutti. Perché l'Ayurveda è per tutti, ma è diversa per ognuno. Per cui, non tutte quante le spezie vanno bene per chiunque. La curcuma, insieme con altre spezie, tra cui il cumino, per esempio, è una delle poche che tutti possono utilizzare senza avere controindicazioni. Inoltre, nelle pietanze ayurvediche si utilizza sempre e si usa sempre alla fine. Da un punto di vista fisico, naturalmente, perché serve appunto per eliminare i batteri ed è un antibiotico naturale. Da un punto di vista, invece, sottile, la curcuma è la dea dorata, per cui garantisce ricchezza, prosperità, benessere. Ed è per questo che si mette sempre alla fine, perché è una delle immagini terrene della dea. Ed è per questo anche che viene utilizzata moltissimo da un punto di vista rituale e anche da un punto di vista sottile, non unicamente fisico e materiale. Ma questa è un'altra storia. Ed è per questo anche che sia un'altra storia, non unicamente fisico e materiale.